Taranto è davvero una miniera per quel che riguarda la ricchezza del patrimonio archeologico. Ci troviamo a Taranto appunto in via Mazzini o meglio negli interni di alcuni stabili di via Mazzini, dei cortili a verde. Fin qui nulla di strano, tutto regolare, ma c'è una primizia che vogliamo darvi. Al di sotto di questi cortili, se scavassimo, chissà quante ricchezze riemergerebbero, rivedrebbero la luce. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, agronomo. Allora, dottor Pasculli, un patrimonio evidentemente da valorizzare, come detto, da riportare alla luce. Beh, assolutamente sì. Quando noi diciamo che il Borgo Umbertino merita attenzione da parte dell'amministrazione e per la sua salvaguardia, ci riferiamo anche a queste che sono delle bellezze e sono tipiche del territorio. Non le ritroviamo in tutte le città. Queste sono delle antiche aree di cava magno greche, che poi nel tempo sono state riutilizzate, sono poi riutilizzate come ortali privati. Difatti, se noi possiamo notare, queste aree sono sottolivellate rispetto all'attuale piano di Calpessio della città. E effettivamente valorizzare queste aree da un punto di vista turistico sarebbe assolutamente molto importante, anche perché sono delle particolarità tipiche della nostra città, un po' come la Babilonia dell'epoca. Ed è per questo quindi che è necessario salvaguardare il Borgo Umbertino ed evitare appunto gli abbattimenti che purtroppo avvengono. Dottor Pasculi, lei vuole promuovere qualche iniziativa finalizzata a riscoprire queste bellezze, coinvolgendo associazioni, enti? Sì, infatti la mia intenzione è quella di andare a riscoprire questi antichi ortali della città di Taranto e con le associazioni culturali magari riuscire a fare un tour turistico per la valorizzazione appunto di queste antiche aree di Cava. Far rabbia vedere una ricchezza nascosta, dei gioielli nascosti di cui non possiamo godere la visione con tutti gli annessi e connessi in termini di turismo e di ricaduta socio-economica per il territorio. Assolutamente sì, se noi consideriamo che queste sono delle aree millenarie che sono praticamente rimaste intatte così dalla Magna e Grecia ad oggi, effettivamente la valenza culturale è notevole e notevole sarebbe logicamente anche la ricaduta turistica e lavorativa, perché qui intorno a queste aree a verde potremmo creare realmente un circuito e quindi del lavoro. Vedete, quando io dico che Taranto può e deve vivere senza Ilva, non è una bestemmia, non è una follia, le ricchezze ci sono, immaginate, sfruttando queste ricchezze archeologiche, come l'economia ionica si capovolgerebbe incredibilmente. Grazie a tutti.